Mi sono fermato un attimo, proprio il tempo si è fermato come a... Io volendo potevo dirgli, no, guarda, io non combatto tanto, scegli un altro avversario, no? Però invece ho detto, sì, è il mio momento. Cioè, è il mio momento, io adesso vado là e dimostro chi sono. Buongiorno ragazzi e bentornati qui sul canale YouTube. Ciao a tutti, io sono Lorenzo Crocco e benvenuti, se per voi è la prima volta, qui sul canale. Questo è 4 chiacchiere al CR2 Studio. C'è stata una lunga pausa, motivata da diversi appuntamenti lavorativi. Stiamo seguendo le gare di mountain bike del mondiale in giro per l'Europa, quindi insomma siamo sempre via, ma ora siamo per un po' qua a dovada e quindi riprendiamo il format e lo riprendiamo con uno sportivo. Uno sportivo che sta portando veramente in alto i colori della bandiera italiana in tutto il mondo e quindi è con immenso piacere che vi presento Daniel Giacobbe. Daniel, super piacere, benvenuto. Grazie, grazie. Sono contentissimo che tu sia qua. Anche per me è un orgoglio, diciamo. Ma l'orgoglio è mio, perché allora, poi facciamo un piccolo spoiler, lui ha appena vinto una gara, una di quelle più importanti a livello mondiale del non professionismo, nell'ambito del pugilato. Esatto. E quindi stai per mettere piede nell'ambito del professionismo, poi mi racconterai nel dettaglio. Allora, per quelli che sono a casa e che non conoscono Daniel Giacobbe, tu riusciresti a dire chi è Daniel Giacobbe? Allora, io sono, cioè io mi definisco un semplice ragazzo con un sogno, diciamo, e io lavoro fortissimo su questo sogno, ho investito tantissimo tempo, ho investito tutto me stesso. Io nasco qua da Ovada, io ho cominciato tutta la mia carriera a Ovada, alla Box Ovada a Gerino, e io ho cominciato questa strada per puro caso, per puro caso. Come mai per puro caso? Cosa vuol dire? Per puro caso vuol dire che a me inizialmente quando ero giovane non mi interessava fare sport, non mi interessava niente di tutto ciò, anzi mio padre quando ero più o meno sui 14-15 anni ci aveva anche provato a dirmi, ma vuoi iscriverti a fare il pugilato e tutto? Ho detto no, non mi interessa. Poi all'età di 16 anni, 16-17 anni, un mio amico continuava a ripetermelo, vieni andiamo in palestra, vieni andiamo in palestra perché così non vado da solo, mi vergogno. Io, vediamo, 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 alla fine mi ha convinto, siamo andati in palestra, lui poi dopo pochi mesi ha smesso, io invece non mi sono mai più fermato. E che cos'è che ti ha proprio folgorato, che ti ha fatto innamorare di questo sport? C'è un dettaglio? Questo sport mi ha fatto innamorare tantissimo per tantissimi motivi. Cioè, uno, io do veramente tutto me stesso, proprio la sfida che hai proprio con te stesso, di migliorarti, di migliorarti, e in più vedevo gli altri, vedevo che comunque io quando ho iniziato, soprattutto c'era della gente che era molto più avanzata di me, e soprattutto magari quando mi mettevano con loro, io ero, c'era veramente una differenza di livello abbastanza significativa. E io, no, io dovevo migliorarmi, io dovevo arrivare a essere il numero uno. Cioè, vivevo questa vocazione nel diventare il più bravo. Esatto, esatto, esatto. Ma non hai mai avuto, cioè tu hai deciso subito di combattere, squala, intanto faccio una premessa, chiedo scusa a tutti quelli che ti seguono e che sono nell'ambito delle bugiote perché ti farò delle domande stupidissime, però non è il mio sport, non lo conosco, quindi farò domande un po' da profano, quindi mi perdonerai. Ma la mia ragazza vive a Londra, io sono andato a provare box a Londra, che tu mi direi, ma cavolo, ma potevi provarlo qua, vada. Il destino vuole che ho provato là, bellissimo, mi è veramente un sacco piaciuto, però non credo che riuscirei a combattere. Cioè, nel senso, mi piacerebbe fare box, ma la preparazione, cioè non salire su ring e avere uno scontro con un'altra persona, perché avrei paura di prendere i pugni sulla faccia. Questo è un mio grande terrore. No, io questa paura non l'ho mai avuta nel primo giorno in cui io sono entrato in palestra. E il primo giorno che sono entrato in palestra, proprio a iscrivermi a chiedere informazioni qua o vada, mi ricordo il mio vecchio allenatore Paolo Barbero, a cui devo tantissimo qua o vada, perché mi ha portato veramente... Ti ha fatto innamorare di questo sport. E la prima cosa che ci ha chiesto è, ragazzi, voi venite qua, ma qua c'è da combattere. Questa non è una palestra per giocare a biglia, qua c'è da combattere. Io ho detto, io combatto. Io ho combatto subito. E quanto è duro l'allenamento? L'allenamento è molto più duro a volte l'allenamento che il combattimento in sé. Perché il combattimento non lo vinci sul ring nel momento in cui stai combattendo, ma lo vinci allenandoti duramente tutti i giorni. Comunque è molto, molto duro. È molto duro. A volte è quasi più dura la dieta in sé che l'allenamento. Però è molto duro perché tu devi dedicarne tantissimo tempo. Io per questo ultimo combattimento, per gli ultimi due mesi, prima del combattimento, mi sono allenato due volte al giorno tutti i giorni. Due ore al mattino, due ore alla sera tutti i giorni, non un giorno che no. Avevo solo un giorno di riposo a settimana, perché i muscoli dovevano riposare. Però mi sono allenato tantissimo. Infatti mi sono fatto seguire fisioterapisti, ho fatto tantissime sedute di crioterapia in Alessandria. Ho letto, ho letto. Cioè, quindi è stato veramente un percorso lunghissimo, però ho seminato quello che ho raccolto perché ha dato i buoni risultati. Ma facciamo un attimo un breve riassunto per chi non ti avesse seguito o magari non ti conoscesse. Tu da quando combatti, combatti nel mondo dei dilettanti. Che questa parola dilettante a me mi suona un po' strano perché poi i pugni sul ring ve ne date per davvero. È semplicemente che chi fa professionista non lavora, cioè fa solo quello, vive di pugilato. Sì, e allora soprattutto qui in Italia il dilettantismo è molto diverso, diciamo, perché c'è chi vive anche di dilettantismo qua in Italia. C'è chi non passa professionista per una scelta, perché preferisce la box olimpionica, diciamo, la box dilettantistica che quindi va in giro con la nazionale, e tutto, sono pagati, anche certi hanno comunque abbastanza bene. E la differenza in sé, cioè io non voglio rimanere dilettante perché io voglio seguire le orme dei professionisti, dei grandi campioni. Ok. Proprio i grandi campioni dall'epoca antica, diciamo come Muhammad Ali, che dico un nome perché è un nome che conoscono tutti, no? Ai tempi di oggi, un canelo, chi sia. Quindi io voglio arrivare a quei livelli lì. Ok. E come sei arrivato a fare questo combattimento in America? Tanto se puoi spiegare che gara era, perché io l'ho spiegato male, però... Allora, questo qua era una riunione internazionale, no? Appunto, in cui ci sarebbe dovuta stare una rappresentativa italiana, una rappresentativa inglese, contro, appunto, la nazionale americana. Ok. E purtroppo per diverse ragioni l'Italia si è quasi tirata, dovuta quasi tirare tutto indietro, tranne io, tranne me. Io sono rimasto l'unico a combattere a nome dell'Italia e poi c'era stato, poi c'era un bel gruppo invece dell'Inghilterra, dell'esercito. Ok. Perché comunque sapete ci sono diverse squadre sportive, qua ci sono le fiamme ore e tutto, loro sono venuti dall'esercito. E io, no, io non mi sono voluto tirare indietro, no? Cioè, purtroppo per andare là abbiamo dovuto spendere tutto di tasca nostra, no? Però io, dal combattimento in America, io in questo qua non ho preso niente. È stato tutto un investimento, però io lo rifarei mille volte su mille. Perché è stata un'esperienza che ti ha sentito. Esatto, è stato, oltre le esperienze in sé, è stato proprio un investimento che io ho voluto fare. Ma ti hanno scelto per andare a combattere? Sì, mi hanno scelto. Ok. Questo perché tu già negli ultimi periodi... Esatto, comunque io nell'ultimo periodo, io ero già andato in America diverse volte. Ok. Perché ho la fortuna, comunque, che mia madre vive là, è tutto, no? Quindi ho, diciamo, preso la palla al balzo, no? Ok. Ne ho approfittato, no? Io sono andato in questa palestra qua, che è la Gleason, è proprio la palestra più famosa al mondo. Ok. E io sono andato là, senza conoscere nessuno, né niente, no? Ho detto, sì, io devo farmi vedere. Io devo farmi vedere. E che cosa hai provato la prima volta che hai messo piede dentro questa palestra? È stata un'emozione fortissima, è stata un'emozione fortissima. Si è sentito subito la differenza con le palestre, diciamo, italiane. Sono entrato e c'era pieno di pugili professionisti che si allenavano al sacco, erano sul ring, che facevano sparring, sparring è quando sali sul ring e ti picchi, diciamo. E io ho sentito una carica dentro che ho detto, sì, ora ci siamo. Questo è il tuo mondo. Ora ci siamo, questa è la mia ora. Ho detto, questa è la mia ora. E lì cosa hai fatto poi? Io sono arrivato lì, allora, siamo andati lì appunto per chiedere informazioni e tutto, no? Ero andato con mia madre, mio fratello, che anche lui è pugile, si allena. E c'era Hector Roca, che adesso è mancato da poco, no? Però è uno degli allenatori, è stato uno degli allenatori più famosi anche lui al mondo, no? Ha allenato diversi campioni, veramente campioni molto, 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 esatto, molto, molto alto a livello mondiale, Arturo Gatti e altri. E lui, abbiamo parlato con lui e tutto, no? Abbiamo detto, domani mattina ci siamo accordati per il giorno dopo, no? Ok, per fare una sorta di provino? Esatto, per fare una, comunque allenarci con lui. Esatto. E comunque mia madre gli aveva detto, no, lui combatte già e tutto, lui ha detto, ok, domani mattina io ti metto alla prova. Io, ok, vabbè, non c'è problema, io sono pronto. Perché sentivi che era il tuo, quindi volevi, era l'occasione che aspettavi. Esatto, esatto, era l'occasione che aspettavo. E niente, io il giorno dopo, al mattino, al mattino presto ci svegliamo, andiamo lì, dopo cinque minuti io ero sul ring a già picchiarmi. Io ho fatto una prestazione comunque molto ottima. Io mi ricordo, la cosa che più mi ha, che mentre in sé che lo stavo facendo non me ne ero reso conto, no? L'ho visto dopo dei video, no? Però dopo un pochi minuti che ero sul ring e stavo mettendo le mie combinazioni tutto, no? Intorno al ring si era riempito di persone per vedere. Ma figura di... Sì, io sentivo dal video, no, che chiedevano, ma è già Pucci, il professionista, chi è questo, no? E questo è stato, è stato ballo, è stato ballo. È una spinta. Esatto, è stata una spinta, è stata una spinta fortissima. E lui che ti ha detto poi, finito... No, lui metto che ero bravissimo, che non dovevo mollare. Perché io ho appena ripreso, diciamo, da un periodo di stop, ho dovuto, o se è un infortunio, a cose un pochino lavorative, esatto. Ok, il lavoro. Esatto, esatto, esatto. Perché il pugilato è uno sport bellissimo, uno sport bellissimo. Ma quando tu combatti e combatti a dei bei livelli, ti mette veramente tanto alla prova. Tanto alla prova. Psicologicamente, tanto psicologicamente. Non è tanto i dolori muscolari, i dolori dei pugni e tutto, no? Ma è la testa, è la testa che fa la differenza. Ti chiede tantissimo di testa e a volte è capace di darti il mondo, però a volte è capace di buttarti giù e metterti veramente in ginocchio. A riprendere. Esatto. Io ero in un periodo in cui mi aveva messo veramente in ginocchio, diciamo, pugilato. Però poi non ce la fai a smettere. Una volta che tu sei in pugile, rimani pugile per sempre, non ce la fai a smettere. Bella questa frase. Mi piace. Non ce la fai a smettere. E poi, insomma, da lì tu hai capito che quella era la tua strada, questo allenatore ti ha consigliato che cosa fare per arrivare a questa gara o tu devi ancora iscriverti? Allora, no. E questa gara non ce l'ha ancora. Questa gara non ce l'ha ancora. Io poi ero tornato in Italia e io comunque gli avevo detto, no, io adesso voglio riprendere tutto, no? E lui mi ha detto, mettiti in forma che poi quando vieni di nuovo qua ne parliamo assolutamente per esordire come professionista e tutto, no? E lui mi ha detto che io sono pronto, no? E poi io torno in Italia, poi poco dopo lui viene a mancare. Gli viene un infarto e viene a mancare. E niente, purtroppo allora poi io comunque torno, no? E lui comunque mi aveva visto un suo collaboratore, mi aveva comunque sapeva di me, cioè sapeva di me per parlato, perché non mi aveva visto. E io sono andato per allenarmi con lui. Questo qua è un grandissimo allenatore che ha allenato anche lui campione del mondo. Lui ha partecipato alle Olimpiadi del 92 a Barcellona. Ok, quindi un professionista. E' uno che è stato un ex professionista anche lui. E' uno che di Pugilato ne sa veramente tantissimo, tantissimo. E anche lui, io sono arrivato e lui, sono arrivato perché dovevamo anche metterci a corda, perché lì si stava già parlando di questo incontro, l'ultimo incontro che ho fatto. E anche lui mi ha voluto mettere alla prova. E mi ha voluto mettere alla prova con due suoi pugili, no? Che sono fortissimi, fortissimi. Tutti e due pugili erano campioni della WBC, che è la compagnia più grande al mondo. Loro erano campioni di tutta la parte latina. Porca miseria. Di tutte le nazioni latine e loro erano campioni, diciamo. Ti ha messo contro due mastini. Esatto, diciamo. Uno che è cioccolatito, no? Si chiama, Jose, che era a livello tecnico, era super, super bravo. Cioè, tecnicissimo. Cioè, giocare, combattere con lui, no? È come giocare veramente a scacchi. L'altro invece era Ariel Lopez, si chiama. Era un messicano, è un messicano, ma un messicano che picchia... Cioè, nessuno mi ha mai picchiato così forte come mi ha picchiato lui. E però tu hai tenuto botta. Sì, io ho tenuto botta, io ho tenuto botta. Io mi ricordo. E le prime volte è stato veramente duro. Cioè, io non l'avevo mai fatto con una persona così forte. Cioè, comunque lui aveva 20 incontri, 21 incontri, scusami, no? Aveva una sola sconfitta, la maggior parte dei suoi incontri li aveva vinti tutti per KO. Quindi aveva un pugno micidiale. Fortissimo. Già da che ho mai tirato un pugno con una mano, ho paura. E sì, diciamo che le prime volte è stato un po' così. Cioè, si è vista la differenza, no? Però poi io ho continuato, continuato. Infatti l'ultima volta che sono andato ora per l'incontro, ho fatto la preparazione con lui, non si vede neanche la differenza, secondo me. Anzi, è stato molto bello. L'ultimo allenamento che ho fatto lì. E io mi ero cambiato tutto, no? Poi sono arrivati due ragazzi, no? Che ci avevano già visto fare guanti, no? Hanno detto, no, 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 fermi tutti. Io voglio vedere questi due che salgono sul ring. Sì, che eravamo io e intendeva io e lui. Perché comunque quando salgiamo sul ring... Cioè, lui, Ariel, questo ragazzo qua, mi ha insegnato tantissimo, no? Perché io volevo imparare da lui questo... Tipo la box latina, no? La box latina che... Pam, pam. Picchia tu, io picchio, no? Cioè, veramente la guerra. La guerra sul ring. E lì era veramente la guerra. E infatti quando saliamo io e lui è... Fuoche d'artifici, cioè. Fuoche d'artifici. Ma scusa, ma... Quindi non esiste o c'è rivalità con i tuoi compagni di allenamento? No, assolutamente no. Assolutamente no. Perché tu hai detto io ho imparato tanto da lui, quindi vuol dire che... Sì, no, no, no. Io ho imparato tanto da lui perché lui mi... La cosa che mi ha insegnato più di tutte è non mollare. Non mollare, cioè, nulla. Perché lui anche quando io ero stanco, lui mi dava. Ok. Lui mi dava. Quindi è meglio che non molli, che continui perché... Se no è finita. Se no è finita. Cioè, io ho imparato tantissimo da loro due. Sia da lui che anche dall'altro ragazzo, Cioccolatito. E soprattutto anche da allenatore, perché l'allenatore mi ha seguito molto, no? Mi ha portato all'angola il mio combattimento. Quindi è stato bellissimo. E racconta invece proprio la gara. Ok, la gara invece è appunto... Dopo che è mancato Hector, no? Io sono venuto là, che è la prima volta che mi sono allenato con loro. Che loro mi hanno messo un po' alla prova e tutto, no? E poi con il proprietario della palestra, lui metto... Cioè, lui... Io gli ho detto, io voglio combattere, cioè. Mi ha detto, no, no, tu sei valido. Tu sei valido. Noi vogliamo farti combattere per noi, cioè. Vogliamo farti combattere qua e tutto, no? E mi ha messo poi in contatto comunque con questo organizzatore qua di incontri, diciamo, che è Mario Di Bartolomeo, no? Che lui è di Roma. Ok. E poi Mario Di Bartolomeo, appunto, mi ha detto, ti organizzo io l'incontro e tutto. E dopo un po' stavamo provando già a prepararlo per esordire come professionista, no? Io volevo già esordire come professionista. Però purtroppo la federazione italiana, no, mi impone che io dovevo avere obbligatoriamente un ultimo incontro come direttante, no? Negli ultimi dodici mesi. Ok, ok. Io purtroppo non avendo più combattuto a tutto, esatto, no? Abbiamo dovuto fare questo combattimento dilettante, no? E però io volevo chiudere comunque la carriera, cioè, in bellezza, assolutamente, no? Quindi a loro c'era appunto questa riunione internazionale, no? E lui mi fa... All'occasione giusta. Esatto. E lui mi fa, io ti voglio, io voglio te, io ti inserisco. Io voglio te, io ti inserisco a rappresentare l'Italia. E niente, mi ha inserito, no? Dopo un po' mi arriva, stavamo preparando tutto. Io mi ricordo anche i giorni in cui mi è arrivato appunto l'email che ho scritto chi era il mio avversario. Perché io non sapevo niente, io mi stavo già preparando e tutto, no? E comunque io non combattevo da quattro anni. Ok. Quindi il ritorno al rin dopo quattro anni, cioè, non è sempre facile. Certo, certo. Un po' proprio perché tutte le emozioni, tutto, no? E quindi a volte ti prende un pochino, no? E mi ricordo, mi arriva quest'email, no? Con questo ragazzo qua. Questo ragazzo qua aveva 29 incontri, aveva solo 5 sconfitte. Tutti gli altri aveva 20 tutti. Hanno detto ok. Esatto. Quattro volte campione nazionale, vincitore dei Golden Globes, che è il torneo ringmaster, là. E, diciamo, numero uno della mia categoria. Ok. E tu cosa hai pensato in quel momento? Io in quel momento, io leggo l'email, mi fermo un attimo, mi sono fermato un attimo. Proprio il tempo si è fermato come... Io volendo potevo dirgli, no, guarda, io non combatta tanto, scegli un altro avversario, no? Però invece ho detto, sì, è il mio momento. Cioè, è il mio momento. Io adesso vado là e dimostro chi sono. E tu quanto tempo hai avuto però per preparare questo incontro? E allora, io diciamo che se ne parlava già da tanto, quindi io era già da tanto che mi preparavo. Anche perché, stando fuori da rintanto, no, c'è stata proprio una questione anche che io devo tornare alla mia categoria di peso. Ok, certo. Esatto, perché lì, come sai, è tutto a base di quanto pesa uno. Entri in una categoria o nell'altra. Tu sei nella categoria? Io adesso sono... Io vado dai 60 ai 64 alla categoria superleggeri. Ok. Da professionista combatterò nei 59 kg, invece. Ok, quindi devi perdere... Sì, perderò, poi farò il taglio del peso. Ok. Tutta una questione diversa quando combattiscono a professionista. E quindi poi io mi sono fatto gestire da un gruppo di professionisti di... Cioè, veramente, hanno fatto un lavoro con me. Ma tu l'hai fatto là? Questa preparazione intensiva. No, no, no. E questa preparazione intensiva io ho fatto i due mesi qua. Ok. E poi io ho fatto gli ultimi 15 giorni li ho fatti là. Ok. Che gli ultimi 15 giorni là sono stati veramente mostruosi. Sì, scusami, avevo letto in qualche articolo che tu sei seguito in una palestra. Esatto, io a me seguo un gruppo di Genova per quanto riguarda la nutrizione. Ok. Che è il team 4x4. Ok. Loro mi seguono con Michael Azzalone e anche Luca Tennello. Luca Tennello è il mio preparatore atletico, no? Quindi anche lui ha fatto un lavoro micidiale, no? Io non, questo era il mio 42esimo incontro. Ok. Io non ho mai raggiunto una forma come era in forma questo combattimento. Bello. Ero proprio al top. E com'è lasciarsi in mano a dei professionisti? Era al top. Era completamente diverso. Ti lascia un po' più libero da... Era completamente diverso. Proprio anche a livello, diciamo, motivazionale, tu ti senti anche, hai una sicurezza in più. Hai una sicurezza in più. Io sono salito su quel ring a combattere, quando ho fatto il combattimento, che ero proprio sicuro. Ero sicuro. E ho detto, io adesso salgo ma io vinco. Io ero sicuro che avrei vinto. Ero sicuro che avrei vinto. Anche nonostante avessi un avversario molto, molto quotato. E molto quotato io ero anche dato come sfavorito. E infatti, sulla carta immagino... Assolutamente sì. Sulla carta io ero sfavorito. Sulla carta ero sfavorito, anzi, e vedevo che prima degli incontri loro, la natura del mio avversario mi guardava un po', rideva e tutto. E anche il mio maestro mi ha detto che lui aveva sentito dire che per loro era una vittoria facile. E invece io sono andato lì e ho vinto e mi sono fatto valere. È stato un combattimento stretto. Cioè? Diciamo che io ho vinto, però non ho stravinto, diciamo, perché comunque il mio avversario è stato anche molto bravo. Cioè, lui è stato molto bravo. Sulla corta a distanza era molto bravo. Però io, quello che mi distingue, secondo me anche come pugile, è che io uso molto la testa. Sono molto la testa perché io ho sfruttato i suoi punti deboli. La box a media distanza, tutto, aspettavo ogni suo singolo sbaglio e gliela facevo pagare. Bello. Quindi è stato bello. È stato molto bello. Complimenti, Daniel, davvero complimenti. Ma c'è modo di vedere l'incontro su un video? Perché io non ho visto che tu non hai pubblicato. Assolutamente, sì, c'è uno streaming. Cioè l'unico cosa che c'è è uno streaming che hanno pubblicato loro, quelli di New York. Se puoi magari mettere il link, lo mettiamo in descrizione, così per quelli che lo volessero vedere se lo possono gustare. Assolutamente, sì. E dimmi un po', quando ti hanno alzato la mano, il guantone, non so come si dice, però, che ti hanno proclamato vincitore. Allora, l'incontro è stato molto, diciamo, io la prima ripresa, ho fatto tre riprese a tre minuti. Prima ripresa l'ho vinta proprio nettamente. La seconda e la terza, invece, erano un pochino più strette. Sicuramente lui ha visto che era in svantaggio e ha voluto dare il tutto di se stesso. La decisione è stata una decisione non unanime. Quindi su tre giudici, uno mi ha dato sconfitto. Per me è andato anche quello al rallentatore. Han detto, vince, per decisione, non unanime. Però io ero lì, io ero lì con la mano che io... Sapevi. Me lo sentivo nel cuore, me lo sentivo. E infatti poi quando han detto angolo blu, io sono saltato con tutta la gioia, ho preso la mia bandiera italiana, l'ho sventolata ovunque, con tutto il mio tifo italiano che c'è, perché comunque c'erano tanti italiani e mi hanno fatto un tifo omicidiale. È stato bellissimo, è stato bellissimo. E dopo quello ho finito l'incontro e adesso arriva il ballo. Esatto, il tuo progetto futuro qual è? Perché io non conoscendo questo sport non so quali sono i passi per entrare nel professionismo. Allora, quello che mi richiedeva la federazione è che io ormai soddisfo tutti i campi per questo passaggio del professionismo. Perché comunque non tutti possono passare professionisti, è solo determinati pugili che hanno ottenuto un tot di vittorie, un tot di fama, diciamo. Io comunque ho combattuto, questo era un incontro internazionale, ma io ho già fatto diversi incontri internazionali. Perché comunque con la mia palestra originaria, la Boxovada, qui mano sul cuore, li devo tantissimo, perché tutto quello che io sono ora, tutto quello che sono io ora, lo devo alla Boxovada. Io ho messo l'originario Corio, Sergio Corio, perché loro hanno costruito le fondamente di quello che io sono. Senza di loro io non ci sarei. Non sarei tutto quello che sono ora, non lo sarei. Mi hanno costruito come pugilato, come carattere, in sé come persona. Perché il pugilato ti costruisce come carattere. E vabbè, io ho già combattuto in Svizzera, a Monte Carlo, in Francia, in tantissimi posti. Ho combattuto campione svizzero, ho vinto qua in Novada, un incontro internazionale. Sì, che ho vinto in Svizzera e poi in Francia, è venuto francese qua, l'ho vinto, ho vinto la cintura, è stato bellissimo. E vabbè, tutto questo, tutte le esperienze bellissime, però con il diventatismo basta. Diciamo che ho chiuso. Perché appunto mi hanno richiesto tutte le cose. Questo qua era il mio ultimo incontrato dilettante, che io, come abbiamo visto, ho voluto chiudere in bellezza. Battendo a casa sua, il più forte che c'era. E adesso io sono già in contatto con delle agenzie, appunto delle promotion e tutto, no? Però abbiamo scelto già, stiamo vedendo con delle agenzie, non delle agenzie qualunque, ma proprio il leader delle agenzie mondiali. Ok, bello. Quindi stiamo scegliendo proprio il top. Il top. E quindi quando è che si saprà qualcosa? Adesso io come progetto vorrei appunto esordire più o meno verso settembre, ottobre, come pubblico professionista negli Stati Uniti. Ok, quindi ti trasferiresti là? Adesso al momento magari finire la mia preparazione là, quindi magari vado, sicuramente andrò un mese, un mese e mezzo prima magari per finire la preparazione e tutto, no? Però come base ho ancora l'Italia. Ok, e per entrare nel professionismo in questa agenzia che hai detto devi fare un provino oppure sulla base di quello che sono i tuoi risultati? Il mio ultimo combattimento è stato il mio provino, diciamo. Quindi tu adesso devi solamente andare a bussare la porta? Esatto, esatto. Adesso nel giro di due settimane, giù di lì, mi dovrebbe arrivare la mia licenza pugile professionista. Quindi, bello, cioè, Ovada non ha mai avuto solo un pugile professionista in tutta la sua storia, sono 40 anni che c'è, quindi per me è un orgoglio enorme. Bellissimo. Esatto, portare anche i colori, diciamo, di Ovada. Un solo dell'Italia. Dell'Italia, perché la cosa per me è di arrivare da Ovada, io lo porto con orgoglio, proprio con orgoglio. Cioè, più che orgoglio è una motivazione, perché tu arrivi da una piccola cittadella, 10.000, 11.000 abitanti, no? Tutti pensano, no, non puoi, è impossibile. Non ci sono i mezzi per poterlo. Non ci sono i mezzi, ma invece se tu vuoi, puoi. Devi fare sacrifici, ma tutti possono. Per me, io ho incontrato gente qua, anche in Ovada, in Palestra, che per me erano anche più, cioè, erano anche migliori di me. Amano anche più talento di me, però tu devi volerlo, cioè, devi volerlo. Deve essere il tuo obiettivo, devi lavorare e vivere in funzione di questo, cioè, perderti per strada. Esatto, non ti devi, non bisogna perdersi per strada e tutto, no? Quindi, per me arrivare da qua fino a là vuol dire tanto, vuol dire tanto. Adesso, come ti dicevo, appunto, mi aspettare solo la licenza, poi ci sarà, appunto, la firma del contratto e poi basta, banda alle ciancere e si combatte. Si combatte. Si combatte. Io ho già, appunto, proprio i miei piani, cioè, ben definiti, perché io adesso esordisco ottobre, spero che se Dio vuole, che nel giro di almeno quasi un annetto e tutto, incomincio a combattere i miei primi titoli. Ok, bello, cavolo. I primi titoli che sicuramente saranno internazionali, tutto, prima, la strada per arrivare a un eventuale mondiale è lunghissima, cioè, è lunghissima, non so se, non so se ci arriverò, però io metto tutto me stesso, esatto, io metto tutto me stesso, per me l'obiettivo è quello. Bellissimo. Quindi, appunto, al massimo e andrò al massimo. Grande. Daniel, io ti ringrazio davvero di essere venuto qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro, immediato e anche lontano. Spero di rivederti qui, in questo studio, chissà fare qualcosa di diverso, chissà, ti ringrazio davvero e alla prossima. Ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti qui con noi, se questo video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i video di QC. E noi ci vediamo lunedì prossimo per un nuovo video. Ciao! Ciao!